Vi interessano i retelling del mito greco ma ce ne sono così tanti che non sapete da che parte iniziare oppure non sapete quale vale veramente la pena leggere? Allora ve ne consiglio io tre di autori italiani. Il primissimo è Dialoghi con l'Eucò di Cesare Pavese per gli amanti dei classici ma non solo e in questo libro sono riuscita a ritrovare la stessa potenza evocativa e il lirismo che ho trovato solo ed esclusivamente nell'Iliade e Odissea e nelle altre opere dell'epoca. 26 dialoghi con tantissimi personaggi da non perdere. Il secondo libro è Itaca per sempre di Luigi Malerba. In questo romanzo l'autore va ad affrontare il rapporto tra Penelope e Odisseo. Vi siete mai chiesti come mai Penelope all'arrivo di Odisseo non l'abbia riconosciuto? Bene, l'autore va ad indagare proprio questo. E infine La splendente di Cesare Sinatti, un romanzo corale che va ad analizzare tutti i personaggi che ruotano attorno alla guerra di Troia con una prosa davvero lirica ed emozionante che vi riporterà direttamente indietro nel tempo.